Aumenta la povertà, l'8,3% della popolazione europea non ha potuto permettersi un pasto completo ogni due giorni, rilevazioni Eurostat. L'Italia è il tredicesimo posto tra Malta e Spagna. La percentuale più alta di persone ha rischio povertà registrata in Bulgaria, Romania e Slovacchia. La quota più bassa in Irlanda, Lussemburgo e Cipro. Tra gli indicatori della povertà, oltre ai pasti, la capacità di affrontare spese impreviste, mantenere la casa in modo adeguato, fare una settimana di ferie all'anno.